Grazie davvero a voi per essere ancora qui con noi, so che ci sono ancora altri palchi che stanno andando, molta gente in giro per la fiera, per noi è stata un'edizione questa molto molto particolare, ora c'è sempre una diatriba con Gianluca Grossi che ringrazio alla regia che è lì se lo potete inquadrare perché fa un lavoro da anni micidiale per noi, allora c'è sempre una diatriba con lui perché alla fine io voglio far salire tutti sul palco, tutto lo staff e con lui li teniamo sempre, non sapevamo se farli salire prima di con la pesce di Martino o dopo, li facciamo salire dopo con la pesce di Martino, però volevo dirvi qualche numerino prima di chiamare su questo palco un ospite importante e dopo ci saranno anche con la pesce di Martino, per dire che cosa? Dire che il fatto che la manifestazione sia rimasta in Italia e in questa regione per noi è stato molto importante, è stato anche molto complicato, quindi ringrazio, poi li richiamerò sul palco tutte le ragazze e i ragazzi del nostro staff di Sir John, che non so davvero come ringraziare, vi chiedo un grandissimo applauso per loro perché è un impegno questo davvero importante, chi ha seguito il main stage in questi tre giorni, vi ho provato a lanciare anche qualche messaggio alle istituzioni per avere un minimo di supporto e vi chiedo anche un applauso per i ragazzi che con dei percorsi universitari ci danno una mano in questi mesi e non so davvero come ringraziarli, quindi chiedo davvero un applauso per loro e dirvi anche che per noi è stata un'edizione da record perché oltre alle start up presenti ai metri quadrati, a tutti i 700 espositori abbiamo avuto 70.000 presenze in tre giorni, quindi per noi è davvero un motivo di orgoglio e soddisfazione e vi ringrazio davvero di cuore per questo, anche se per noi la cosa importante riuscire a trasmettere sempre dei valori. Abbiamo anche lanciato oggi per agevolare tutti l'offerta 2x1 per la prossima edizione, quindi da qui a giovedì prossimo sarà possibile acquistare al prezzo di un ticket o due ticket in totale offerta e abbiamo lanciato anche le prossime date. Detto ciò